lunedì 18 febbraio la copertina di oggi di me tomorrow titola a noi perché da domani riparte la settimana più arrogante e quindi anche quella più desiderata di milano con le sfilate della moda donna a questo proposito tutti gli appuntamenti in agenda nella nostra doppia pagina interna dedicata proprio sia alle sfilate ma anche agli eventi culturali ai cocktail e alle feste che ci saranno da domani per tutta la settimana ma abbiamo fatto con paola pulbarelli anche un focus su quelle che saranno invece le tendenze della primavera ormai alle porte manca poco più di un mese sempre dal numero di oggi dimmi tu morlo non perdetevi tutto il va de me con sull'avvio dei cantieri per il rinnovo della linea 2 della metropolitana la verde perché da domani potrebbero esserci già disagi alla sede stradale intorno a via pacini e poi la posizione che vi abbiamo raccontato anche sui social del sindaco sala sul futuro del palasciano